Signori, per fare un'altra edizione questa è molto veloce in realtà Anche perché non ce l'hanno tutti E mi da molto fastidio questa cosa che non ce l'hanno tutti Allora mettete 2.56 perché sono 169 candidature Pronti? Andiamo Sì, 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 la full, la full, la full Però che pare di spazi vuoti Uh, bellissimo Ghostmon Prima sfida, questa è bella Armadillomon, un demidismo preferito di sempre Contro Agumon Wise È un Agumon Black, come io in blu in realtà lo posso trovare Ma se è pure Agumon Villain, professore Passa Armadillomon Però Agum, professore, mi piace un sacco Ma c'è un motivo nell'ora per cui tutti O meno quasi Finiscono con modi, Digimon? No, sai che non lo so? Ah sì, perché sono dati Quindi non sono tipo Pokémon che hanno un nome proprio Ma sono dei dati Ah, ok Fanno parte dello stesso codice generato la prima volta, capito? Ma questo è difficile, ragazzi Jazzamon, bellino, molto bellino No, non lo conoscevo, mi sono innamorato del design Però siamo contro Shoutmon E Shoutmon è stupendo Jazzamon non lo so, non lo conoscevo Lo porterei avanti, mi vedrei un attimo la linea evolutiva Che mi portano un attimo avanti Non lo conoscevo, stupendo, ragà E raga è bello, cazzo Figola mega, Metallic Dramon Stupendo Metallic Dramon Passa Jazzamon, ragà Non la conoscevo Passa Jazzamon subito E sta subito in Betamon Siamo contro il nulla Vabbè, la prima, ragà, è quella che inizia la partita Bello questo blue command Io sono solo contro il nulla per un po' Agumon contro Agumon a casa, è carino Agumon a casa è bello, ragà Un bel Digimon Perché sarebbe l'Agumon professore buono E non l'ha un professore cattivo Però Agumon dice Black Gilmon Non ho mai visto Black Gilmon Stupendo Non so che cosa c'è il bagno Questo che è stupendo, ragà Questo potrebbe scalare la classifica facilmente Ma perché non ti fisse che con il nulla Mi prende il Digimon Che scambio Contro alcuni pure io preferisco Guamamon X preferisco il nulla, però Eh, pure io Keramon contro Kudamon, no? Io direi Kudamon qua, regà Uh, bello Coca-Buterimon, regà Kokumon Guamon X è bello Ma Vimon passa Agumon Child Potamore di Agumon Agumon Black Che è grandissimo Dot Gaomon Va bene Dot Gaomon penso sia fake Bello Gilmon X È più bello di Gilmon in Gilmon X, voglio Ok, qua ne ho una stupenda Dracomon X Contro Sunarizamon Non lo so, poi sono bellissime Direi Allora, aspetta Vediamoci un attimo le evoluzioni di entrambi È importante, ragà Allora, sto vendo Sunarizamon Che poi in realtà è Sunarizamon Sunarizamon E per cui, infatti, qua ci ha messo la M Non so Passerebbe Dracomon X senza problemi Anche perché è molto più bello di Dracomon Dracomon X, ragà Tu considera che Dracomon poi diventa Hexamon Quindi immaginati Hexamon X quanto deve essere Frenuit Eh Passa Dracomon, ragà Non ci penso di volte Tentomon contro il nulla Candlemon contro Sharmamon Candlemon Vabbè, questo non so che cos'è Sarà un po' un Digimon in farlocco Lei pure sarà super fake Govamon Uh, Elecmon e Floramon Mi piacciono entrambi Direi Elecmon, però Uh, Renamon X è allucinante, voglio Renamon X Bermon Allora, Neemon mi è invece un botto Perché è proprio semplice, ragà Francesco White Vabbè, contro il nulla Enmon, Tuemon Direi Tuemon Toyagomon Dorumon o Dotlalamon Dorumon Non so perché ci sono i Digimon Dot Non so il cazzo delbero Ah, Gozumon X è più interessante di Gozumon, bro È carino È più interessante di Gozumon, Gozumon X Lunamon o Shackmon Lunamon Agurimon Tinkermon Guarda Zubamon, bro, quanto è bello Ignutemon Ignitemon sarebbe questo Akmon contro Kodokuomon Direi Akmon senza nemmeno pensarci Petimeramon Vormon Eh, Vormon Ecco, Bashiagmon l'ho visto Terriarmon X Carino Terriarmon X Ma Bushiagmon è più fremio Dot Falcom Ma perché? Che cazzo c'è? Terriarmon X Carino Lui non è un cazzo Koemon Uuu, la scimmia Ecco come si chiama Koemon L'ho detto, eh, Lakimon Contra Kuromon X Kuromon X Akmon X Eh, Qutamon 2006 è bello pure però Akmon X Ho fatto passare almeno un sacco di Akmon già, raga Malissimo problema questo Siamo problemi a capire, tipo partite Akmon contro Akmon Sì Gazzimon X è carino pure Ok, io ho finito Io sono a 99-128 Ah, Gabomon X non mi piace Passa a Bakmon Oh, Bakmon Kula con Akalomon In realtà lì Don Dokomon contro Whitelotmon Beh, Whitelotmon è bellina Però è una fase di È una scena dell'anime Quindi non la prendo come di giù Non esistente Dokugemon o Ryutamon Ryutamon senza nemmeno pensarci Bokomon con Mandramon Bokomon Bokomon contro uno dei demoni delle tenebre Diventa quello che dorme sempre Il Fascomon Eh, se è difficile Mottolucemon Però l'altro era fortissima Alla sua evoluzione Piomon e Renamon Direi Renamon Erismon è bellissimo Erismon è stupendo Gannimon X Corubimon Goblimon che è meno simpatico Monodramon contro Starmon Monodramo, Starmon non lo voglio come vedere Pommmon Bellissimo Modocchi e Batman è bello Ma Pommmon è stupendo Dei nuovi Digimon Di Digimon 2020 Che è stupendo davvero Adesso comincia il gioco Perché abbiamo tolto tutta la roba Del nulla Dracmon solo Ah, Dracmon pass Monitomon e Toyagmon Toyagmon Agmon, Gazimmon Eh, Gazimmon Sei bello Ma sei quanto il migliore quasi Eh, cari Oh, raga Comunque altra cosa super casuale Pancesmon White Versus Pancesmon Black Quante casualità c'erano Che poteva succedere Non c'era casualità Che poteva succedere Una roba del genere Bro Poi dopo il Black Invece molto di più Gilmon Patamon Eh, Patamon Si è stato sconfitto I migliori Labramon Psichemon Labramon Psichemon Non mi piace assai Kotemon Naguromon Oh, Aguromon Shichikurimon Yukihagmon Yukihagmon Vediamo il Yazamon Mamma quanto è bello Yazamon mi rischia la finale Voglio, è troppo bello Gabumon Operataos Si, 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 che io l'ho scritto la lista Ah, stai andando dritto Quindi stai andando dritto È già finito È finito Non è finito È finito tutto Che cazzo dici bro 200 Passa cose Sì, io l'ho finito Tipo 5 minuti fa Sì, io l'ho finito Sì, io l'ho dritto È quelli che facciano Eh, mi sei Dopo Bro Sì, sì Dove Ok Ok Da questo punto Dici già Qual è il tuo top Ha vinto Vorbomon Vorbomon Bellissimo Vorbomon Pace un sacco Secondo Keramonix Ok Terzo Keramon Ok E quarto Ghostmon Però sono un fottuto flash Sì, è un fottuto flash Bro, sì Uh, questo è difficile Villamon è carino Molto bello perché si vuole avere la capruzza con le norme Veniamo a Blucomon Che cosa diventa, raga Perché Blucomon mi ispira un botto Eh, Blucomon diventa un gran cazzo Guarda quanto è bello Bellissimo Passa Blucomon Senza nemmeno pensarci Ah, sì L'avevo visto Eh, questa è brutta La storabimon È bello Però Gilmonix È troppo bello Ma devo capire perché i disegni Nell'ultima evoluzione sono così complicati Vabbè, loro lo hanno di natura questa cosa, zio Che complicano il design Tizzi, ma tanto No, ma dico Tutti sono affugurati, no? Che o tengono in mano qualcosa Sì O hanno qualcosa O lo tengono con i peli Sempre cosa vuol dire Tipo il drago C'è un drago rosso enorme che tiene una lancia Sì? Dipende dall'evoluzione Comunque mi è capitata una cosa Ma no, ma non è Mi è capitata una cosa problematica Allora Che cosa? Penso che tu puoi capirmi Perché hai visto anche tu la seconda stagione Mamma mia Mamma mia Imperial Dramon E non lo posso fare perché devo rinunciare a uno dei miei Brutta Questa fa male Vimon o Wormon Allora vince Vimon perché c'ha più evoluzioni Però ricordate che per fare Imperial Dramon serve Wormon Serve anche Wormon Quindi Rango S entrambi Passa Vimon ma Rango S Assolutamente Stingmon fighissimo Eh Stingmon è proprio bello Sto andando anche veloce Sto parlando un po' di meno Perché tanto sappiamo già che Le prime sono un po' così Poi dopo tanto Mi faranno male Dopo soffrirò Dove chiesti sapere chi vince da me Ho avuto Gizmon bellino L'ho notato Bakumon E poi la ton si chiama Bakumon quello Bakumon è un fantasma Quello è Tapirmon Allora Stangumon mi fa molto schifo Quindi passa Black Hillmon Ragazzi sinceramente Così Uh Gazemon X contro Terriermon Assi Direi che è Assistant Terriermon Mi piace di più Agumon 2006 contro Tinkermon Gizmon contro Erismon Direi Erismon Senza nemmeno pensarci Il Riccio è bellissimo Eh Gamdramon Eh qua è difficile Gamdramon mi piace un sacco E vediamo cosa diventa Zubamon Vediamo se Zubamon vince Eh Zubamon è bello Eh voglio È un cazzo di Cavaliere Dorato Pericoloso Vedere Gamdramon Ah Sì ma guarda che sono tutte stupende Guarda che pure Gamdramon è allucinante Arresta il Dramon Arresta il Dramon superior Mamma mia Mamma mia Mamma mia Zubamon Allora entrambi i modi di Gimonesse Sì sì passa Gamdramon Ma entrambi di Gimonesse per me Vabbè Lunamon spar Eh Sparrowmon non lo conosco Vediamo come diventa Sparrowmon Carino Non è tenere prefe Sincero Però è un bellissimo Digimon Stupendo Però no Lunamon Passa Lunamon Senza nemmeno pensarci Lunamon pulse Mamma pulse Quanto è bello Voglio pulse Subito Gaussmon E Sandberdum Gaussmon Sistermon Black Ok Gaussmon Black Pokémon Algumon Child Yuki Algumon Algumon Child Dirai Burgamon Morphomon Morphomon Otamon Ryudamon Ryudamon Agnite Mon Cheramonix E Cheramonix non ti è arrivato a nessuna parte Urgot Sì Tipo la posizione Cheramonix secondo Ah secondo Quindi è stata la finale Cioè coloro due erano i finalisti Perfetti Sì Ho scelto Vorvomon Perché Vorvomon Perché Vorvomon Non mi ricordo come si chiama Uh questa è brutta Questa è brutta Voglio Agumon contro Lugemon Agumon toglila Ah sei pazzo Il problema è che Lugemon E' uno dei miei Digimon S Passa Agumon Perché è il mio Digimon 6S Però Lugemon è uno dei miei Digimon S Quindi va consigliata anche questa cosa E questo è bellino Allora a me la scimmia piace davvero troppo rispetto a Akumon Quanto Akumon diventa Jessmon che è stupendo Poemon E' un design così semplice che per me passa ancora altro Lo successivo Drakumon contro Pancesmon Agumon 2006 contro Armadillomon Armadillomon però mi piacere più di Agumon 2006 Agumon 2006 a me piace Shane Graham Armadillomon mi piacere più Andiamo un attimo Pulsemon Allora raga Pulsemon è bellissimo Diventa Killesmon Diventa Killesmon Pulsemon raga Però Capumon Direi Ranguà Ranguà è anche Pulsemon però Capumon entra subito Più in gambatesco Elekmon a posto di coso Senza problem Gilmon X con Cunemon Quindi c'è occhi chiusi Impemon contro Bocamon Dormon contro Falcomon Bacumon contro Monodramon Cioè meglio Tapirmon contro Monodramon Direi Tapirmon Senza problemi Allora Erismon Ranguà per me Grandigimon Però Blucomon mi ispira a 6 volte di più di Erismon Protogismon contro Terran Direi Protogismon Terran non si ferma Agumon Black 2006 contro Keramon X Keramon X Lunamon contro Tentumon Per quanto Lunamon è stupenda Tentumon entra in gambatesco Elekomon virus contro Nimon Nimon ancora continuo eh Nimon piace un botto raga Galumon contro Gabumon Black Allora Black Metal Garurumon non mi fa impazzire Quindi lo farei fermare Perché Galumon mi piace molto di più Agumon Black contro Coca-Cabuterimon Per quanto Coca-Cabuterimon mi piace un botto come design Agumon Black passa Perché Black Black Grey Drachmon pure fortissimo Ma Gambramon troppo bello Black Gilmon contro Eh questo è difficile Vediamo com'è Black Gallantmon Mi sa che qua passa Yazzamon Allora Chaos Gallantmon non mi piace a me raga Nel senso l'allenerei Sì tranquillamente Ma non da superarmi questo Digimon qui Sono sincero E pure per me passa Yazzamon Perché è troppo bello questo qua Su Vorvomon Gilmon X Passa Gilmon X Troppo forte Agumon Elecmon Agumon Per quanto Leomon mi piace ma non ce la fa E su Dragomon passa Tapirmon Tapirmon mi piace un botto Eh raga qua è difficile Galumon Gabumon è qui Galumon si ferma mi sa Gabumon passa e Galumon si ferma Alcomon Impmon Impmon Senza meno pensarci Gilmon co Eh scimmietta Sei stupenda Tranquillamente ti metto anche sopra la Sei Digimon S Ma la passa Gilmon Ponumon e Spadamon Mi piace più Ponumon Galumon X Riudamon Riudamon Eh Questa è fuori complicata Alphamon lo adoro Non mi fa impazzire Però Blucomon non mi piace troppo Con il design raga Blucomon è stupendo Formadillomon è Sample Però Dragomon X Bello Dove sei? Sono quasi ai quarti Cioè quasi agli ottavi scusami Galumon e Protogizmon Eh questo è difficile raga Protogizmon è quasi un botto a me Passa Protogizmon Eh l'ultima degli ottavi È pesante Nimon contro Tentumon Per me Nimon è tra i design più semplici del mondo Ma Tentumon è stupendo Fermo Nimon Passa Tentumon Però Nimon rango S Gilmon X contro Impemon Mannaglia Passa Gilmon X Bilzemon lo adoro Voglio dire il mio villain preferito E di nuovo allora Agumon Tentumon Mannaglia Eh vabbè E like Agumon Tentumon Passa Agumon Black Agumon Gandramon Black Agumon Gandramon si ferma Bellissimo Dracomon Riudemon direi Dracomon E Iazamon Tapirmon Anche Tapirmon si ferma Gabumon Gilmon Eh Gabumon si ferma Voglioni Si ferma anche Gabumon Blucomon Pomomon Ok Blucomon Protogizmon Vimon Passa Vimon Quarti Signori Agumon Black Blucomon Black War Greymon Raga Black War Greymon Black War Greymon Tra il cielo nel cervello Gilmon X Iazamon No Iazamon non volevo Perderti così presto Pokémon S raga Passa Killmon X Agumon Vimon Agumon Vimon Bella pesa Imperial Dramon o War Greymon Direi Agumon Però anche questa era bella pesa Dragmon X Killmon Killmon Faticamente abbiamo Black Agumon Killmon Killmon X e Agumon Vabbavia Agumon contro Killmon Passa Agumon Agumon Black Colmon contro Killmon X Ok C'è il finale? Semifinale Ok Black War Greymon O Gallant 1X Black War Greymon Il finale indovinate qual è? War Greymon Contro Black War Greymon E' schifo Mamma mia Quanto sono belli Fai a dire War Greymon Per quanto a Black lo amo E' finita qua Abbiamo tempo per un'altra Secondo me Voglio Se ne vado a fare un'altra